Davide, l'alleanza con la Lega secondo me funziona e ho sentito Floris che dice la gente sa che stanno governando male l'Italia, ma non è affatto vero, questo è un luogo comune. Anche, mi dispiace, da Milano ha detto il Movimento 5 Stelle se non è al governo non è nel Paese. Ma forse sono quelli che furono i lettori dell'Espresso che non ci sono più e che lo mandano in crisi. Il Movimento 5 Stelle nel Paese è pieno di attivisti, di persone che lo votano, che gli vogliono bene. Io giro, domani vado in Sardegna e dirlo continuamente il mio collegio. Dovresti apprezzare, almeno se te lo ricordi, le inchieste libere che da Milano fa, come magari le facevi anche tu quando facevi questo mestiere. Non ho detto che da Milano non fa inchieste, ho detto che è un dato di fatto, purtroppo, che molti giornali, compreso l'Espresso, perdono lettori. Ma questo non è un attacco a da Milano, la verità va sempre detta e mi dispiace anche. Però mi dispiace anche che si dica il falso, che si dica sta governando male, che ha fatto il reddito di cittadinanza, di chi ha fatto il decreto dignità, di chi ha fatto l'anticorruzione, tutte cose che aspettavamo da trent'anni. Dino, abbiamo un tassativo. Dino, abbiamo un tassativo che sta governando male.